Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Ida Platano, ex tronista di uomini e donne, sfoggia un fisico mozzafiato in bikini, lasciando tutti a bocca aperta. Singola e perfettamente allenata, ha stupito con un costume a due pezzi fucsia. Da quando il programma è finito senza una scelta, Ida è molto attiva sui social. Intanto, crescono le voci sul suo possibile ritorno a uomini e donne a settembre. Maria De Filippi ha parlato del rapporto tra Ida e Mario, ex corteggiatore, su Radio DJ. Ha espresso dubbi sulle possibilità di Mario di riconquistare Ida. Maria ha detto a Rudy Zerbi che Mario ha provato molte volte a riconquistare Ida ma senza successo. Intanto, Ida continua a condividere la sua estate sui social. I suoi video mostrano un fisico tonico e abbronzato, fasciato in un bikini colorato. Ha ricevuto molti complimenti e sembra felice dei messaggi dei fan. Alcuni dei commenti che ha ricevuto includono, Tu sei una dea, sei troppo bella, vorrei venire in negozio per conoscerti. La lista continua con elogi sempre più accorati. Ida è stata chiamata strepitosa, meravigliosa, sensuale, attraente, intrigante, dai suoi follower. I fan la vedono come una dea della bellezza. Questi commenti mostrano che Ida non è solo bellissima, ma anche sicura di sé. Ha conquistato i fan con la sua nuova immagine e sicurezza. La nuova Ida Platano è un esempio di bellezza e autostima, lasciando tutti ammirati e in attesa di vederla nuovamente in televisione.